E noi passiamo alla campagna elettorale per le comunali a Firenze. L'Italia dei Valori ha presentato i candidati della sua lista a sostegno di Dario Nardella, mentre Marco Stella di Forza Italia annuncia noi corriamo per vincere. Maria Adele De Francisci. Sono 36 in larga parte provenienti dalla società civile e candidati dell'Italia dei Valori al Consiglio Comunale di Firenze per le elezioni amministrative del 25 maggio. La lista è stata presentata oggi dal segretario regionale Giovanni Fittante con il segretario nazionale Ignazio Messina. Persone per bene, persone che hanno dimostrato sul campo di lavorare al servizio dei cittadini. Questa è la nostra squadra di Dario dei Valori per dire che a Firenze si è fatto già bene amministrando e quindi la continuità con Dardella e l'appoggio a lui è scontato, ma che bisogna continuare a fare futuro.